Ciao a tutti e benvenuti, mi chiamo Laura Leotta, sono un manager della Forever Living. Con questo video ti voglio offrire l'opportunità di poter lavorare nel mio team, nel mio gruppo di lavoro. Io lavoro con la Forever Living, che è un'azienda che tratta e produce l'aloe. La coltiva e la trasforma. Queste sono le piante e questa è la trasformazione in alcuni dei suoi prodotti. Questa è la bevanda di aloe per eccellenza. Questa azienda utilizza il sistema di distribuzione del network marketing, che è un sistema di business che molte aziende oggi stanno abbracciando e che sviluppa numeri all'euro di fatturato eccezionali. Considera che questo genere di business fattura più del mondo del cinema e della musica messi insieme. Dà da mangiare a tantissime famiglie, quindi un sistema di business ed economico molto solido e concreto. Su cosa si basa? Si basa sulla qualità eccezionale del prodotto, che dà soddisfazione al cliente e ne fa passaparola in modo naturale. L'azienda ringrazia per questa passaparola, per questa pubblicità, con delle provvigioni e dei guadagni. Il bello di lavorare in Forever col sistema del network marketing è quello che io riduco notevolmente i miei tempi di lavoro e raggiungo dei guadagni molto consistenti, grazie al lavoro di squadra. Questo è un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo, tutti ci aiutiamo, tutti siamo con la stessa vision, la stessa mission e quindi entriamo in una community bellissima da condividere che aiuta il singolo a crescere, a diventare grande, a costruire il suo business, la sua attività lavorativa, cosa che nel mondo tradizionale non avviene. Quindi un sistema di lavoro meritocratico che ti consente di raggiungere tantissime soddisfazioni e obiettivi economici. Io ho già tanti sogni nel cassetto in questi sei anni che sono in Forever e li ho realizzati grazie alla Forever e quindi così come a me hanno offerto l'opportunità di stare bene fisicamente e anche economicamente, per quel detto cinese che dice di ricambiare con gli altri la stessa opportunità, oggi che tu vedi il video ti offro la mia stessa opportunità. Potrebbe cambiarti la tua vita e il tuo benessere fisico ed economico. Se vuoi approfondirne puoi contattarmi al 328 285 2274. Io sarò lieta di mostrarti la concretezza e la solidità di questo modello di business se sei in cerca di una opportunità o lavorativa o anche solamente di benessere. Quindi contattami, a presto, ciao da Laura Leotta, ciao!